Sicuramente da quello che ho visto oggi la squadra ha prodotto molto di più rispetto alle volte scorse, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto un approccio alla partita sicuramente superiore rispetto alle ultime uscite e questa è sicuramente una cosa positiva. Una volta fatto gol siamo stati distratti a prendersi molto gol. Sicuramente il primo gol è un errore che potevamo evitare. Ci dobbiamo lavorare sicuramente cercando di non ripetere più questi errori. Sicuramente dobbiamo essere uniti, sembrano frasi di circostanze ma è la verità. Poi non mi sembra ci sia una classifica così deprimente. Abbiamo affrontato delle squadre forti, lo sapevamo, faremo di tutto per portare i punti a casa e far contenti i tifosi. Sì, noi non vediamo l'ora di far contenti i tifosi. Lavoriamo per questo tutte le settimane. Poi per me che è la prima volta che sono in una piazza del genere sentire loro per 90 minuti cantare è una spinta. È ovvio che purtroppo i risultati ora non ci stanno aiutando. Speriamo di farlo a più presto così possiamo esultare insieme. Da un punto di vista fisico come stai? Cresce la condizione? Come ti senti? Sì, sicuramente ho passato un periodo non facile perché venivo da un momento dove mi sono allenato poco, ho giocato poco. Piano piano con gli allenamenti, con le partite riprendo forma e spero di farlo nel più breve tempo possibile. Quando sono arrivato qua ho trovato una squadra, un gruppo di ragazzi meravigliosi, una squadra unita, intenti nell'obiettivo. Sicuramente è quello di fare, non si sa se primo, secondo, playoff, cioè quello di fare più punti possibili e di andare in campo e di mettercela tutta. Credo che oggi, a parte l'errore del gol che abbiamo preso, la squadra è stata sempre in campo, sempre sul pezzo e abbiamo rischiato poco. Sicuramente io in primis, mi metto davanti a tutti, magari dobbiamo cercare di servire meglio gli attaccanti. Però comunque abbiamo a Schick che è entrato da poco e sappiamo le sue qualità, quindi di saltare l'uomo, di mettere palle velenose. Quindi abbiamo cercato di servirlo per creare queste occasioni. Poi è ovvio che si può fare sempre meglio, poi ne parleremo col mister in settimana per vedere gli errori quali sono stati. Grazie.